Oggi è lunedì 21 maggio, buongiorno ai nostri ascoltatori, eccoci all'appuntamento con pomeriggio con noi, andiamo subito sulle testate online per un aggiornamento notizie della mattinata. Cominciamo con Lucca Indiretta che dedica la sua apertura alla Movida Lucchese. I locali insorgono contro i nuovi limiti, i baristi dicono solo noi penalizzati serve una mobilitazione generale. Piuttosto forte questa scelta, questa dichiarazione da parte dei proprietari dei locali. Sono sul piede di guerra dunque, seppur con posizioni diverse, i baristi lucchesi nei confronti dell'amministrazione comunale. Motivo del contendere è la proposta per il nuovo regolamento di pulizia urbana presentato qualche giorno fa dall'assessore Francesco Raspini. Questo è il problema che ha suscitato la protesta da parte dei locali e dei proprietari dei bar, volevo dire, e dei baristi, di coloro che lavorano alle dipendenze dei locali. Andiamo ora invece sullo schermo, apertura dedicata a lavori pubblici, illuminazione pubblica remessa a nuovo ad Alto Pascio, partono i lavori per la maxi operazione. E poi grave un pedone investito da un'auto sul viale Puccini a Sant'Anna, l'housing sociale e l'abitare sociale al centro del dibattito, al festival del volontariato. Andiamo ora sul Tirreno online, edizione versiliese, apertura dedicato alla benzina e ai costi della benzina, alle stelle, ecco dove si può ancora risparmiare. A Pietrasanta e a Seravezza il carburante è meno caro rispetto al resto della Versilia. Poi in Piazza Mazzini un adolescente accerchiato da due venditori abusivi, investe una donna col cane condannato un albergatore, e in maltempo oggi in arrivo per la protezione civile scatterebbe per la Versilia l'allerta gialla. Dunque occhio ai temporali, occhio agli improvvisi acquazzoni, scelta di allerta gialla della protezione civile per la nostra zona. Andiamo ora sul Tirreno, edizione Lucca. L'agenzia vende gli abbracci del Papa, il Vaticano si dice è una mascalzonata, offerta per i disposi di un'agenzia di viaggio di Castelnuovo Garfagnano, il titolare preferisce non commentare. E poi Maco, il robot che nessuno sa usare. Poi vediamo questa notizia con più particolari. Un macchinario costoso e innovativo che nelle intenzioni dell'azienda avrebbe dovuto fare di Lucca un punto di riferimento all'interno della Asiona per le protesi di anca e ginocchio. Peccato però che nessuno o pochi lo sappiano usare. Questo è quello che si dice. Parliamo di Maco, il robot piovuto nel monoblocco del San Filippo esattamente un anno fa, quando l'assessore regionale Stefania Saccardi, assessore alla sanità, arrivò a Lucca all'epoca. Eravamo in piena campagna elettorale. Ancora sulla Tirreno, edizione lucchese. Vediamo se ci sono altre notizie della giornata. Bimbo investito in gita, un'auto gli schiaccia la gamba. Il piccolo frequenta una materna di Lucca. L'incidente è durante la visita ad Assisi. Il conducente ha messo l'elettromarcia e gli è passato sull'arto per due volte. Poi aggredisce l'insegnante anche a Lucca. Uno studente finisce nei guai. Andiamo ora sulla Nazione, edizione Viareggio-Versilia. Vediamo le notizie. Il postino suona anche il pomeriggio. Scatta la riorganizzazione, consegna giorni alterni, ma più frequenti per pacchi e per le commerce. Vediamo qualche dettaglio in più di questa notizia. Viareggio prosegue l'applicazione della riorganizzazione del servizio di recapito delle poste. Dopo i comuni della Versilia Storica, il nuovo modello entrerà in funzione da oggi anche sul territorio di Viareggio, Massarosa e Camaiore. Le novità di maggior rilievo per i cittadini sono rappresentate dalla consegna che avverrà a giorni alterni per la corrispondenza ordinaria e che sarà possibile in orari diversi nell'arco della giornata, compreso il pomeriggio. Dunque, di fatto, i portalettere saranno organizzati in tre turni. Vedremo se avremo dei vantaggi dal nuovo servizio di consegna della posta nella nostra terra di Versilia. Poi ancora la canniccia. Vi ricordate la canniccia? Un articolo dell'ex capo servizio oggi in pensione, capo servizio della Nazione, redazione di Viareggio Enrico Salvatori, si è soffermato sulla storia della canniccia, lo spazio solo ai ricordi, la biodiscoteca ora è diventata un rudere. E poi Barbara, lo storico yacht varato dopo il restauro, è tornata a nuova vita, questa splendida imbarcazione in legno, la vedete in questa foto, barca a vela costruita nel 1923 da Camper e Nicholson's. Andiamo ora invece sulla Nazione, edizione lucchese, raccolta di firme per Tommy, il cane in fin di vita separato dal suo padrone. Mobilitazione popolare per il meticcio, vita separato dall'amico. Poi ancora economia in Toscana, ripresa con contagocce, le famiglie sono più risparmiose. Parliamo di cultura, cento dimore storiche in Toscana aprono le porte al pubblico. E poi tenta la fortuna con due euro, vince una casa e il maxi assegno. Beato lui, premio da mezzo milione con Win for Life al caffè Puccini a nave vicino a Lucca. Andiamo ora invece su tgregione.it, stagione culturale a Pietrasanta. Il candidato sindaco per il centro-sinistra Ettore Neri dice, politiche vecchie, amministrazione di centro-destra fallimentari. Nostro obiettivo riportare la versiliana al top nazionale. Lo dice l'ex vice sindaco Mazzoni, ex vice sindaco della giunta di Massimo Mallegni, candidato sindaco con una lista civica, che insieme al candidato del centro-destra Giovannetti dichiarava fino a pochi mesi fa che la loro scelta con l'amministrazione Mallegni per la cultura aveva dato risultati straordinari. Poi cultura ancora a Pietrasanta, città di grandi eventi, per la prima volta la presentazione a Palazzo Madama, l'iniziativa promossa dal senatore Mallegni. Poi tigna a scuola, una circolare ai genitori, le famiglie sono preoccupate. Questo succede a Viareggio. Vediamo qualche dettaglio in più su questa notizia. La lettera, eccola qua giù, del comune. Vediamo. Cari genitori, si sono verificati alcuni casi di Tinea corporis. Può non trattarsi di una patologia pericolosa, invitiamo però a controllare se i bambini manifestano la comparsa di zone arrossate e pruriginose che con il passare del tempo prendono l'aspetto tipico delle eruzioni cutanee da tigna, ovvero presenta una forma di anello. In tal caso è sufficiente recarsi dal medico pediatra per la diagnosi e procedere alla semplice cura farmacologica. Questo è quello che si legge nella lettera che è stata inviata alle famiglie degli alunni della scuola primaria Lambruschini. Andiamo ancora su tgregione.it. Vediamo se ci sono altre notizie di valore. Le zanzare, quando Miracolo era presidente di Sé Ambiente, le cose andavano meglio. Andiamo infine per chiudere sulla nostra testata Noi Web, scontro tra due auto e cinque feriti a Motrone. Uno di questi trasportato all'ospedale in gravi condizioni. E questo è il bilancio di un incidente stradale verificatosi all'alba di domenica alle curve di Motrone a Marina di Petrasanta. È tutto per la prima parte di pomeriggio con noi. Tra poco nostro ospite, l'ingegner Riccardo Bertini, per presentarci un libro che racconta la breve storia del territorio e della trasformazione urbanistica di Torre del Lago Puccini. Linea alla regia. Seconda parte di pomeriggio con noi. Salutiamo coloro che si sono messi all'ascolto della nostra trasmissione. E saluto il nostro ospite, che è l'ingegner Riccardo Bertini. Buongiorno a voi. Riccardo Bertini, un breve cenni sul suo curriculum. Abbiamo detto che è un ingegnere, è stato dirigente del Dipartimento, assetto del territorio della regione toscana e direttore del settore pianificazione del territorio della provincia di Pisa. Ha collaborato con l'Istituto di Estimo della Facoltà di Architettura di Firenze ed è con l'Istituto di Urbanistica della Facoltà di Ingegneria alla nostra università, quella di Pisa. È stato anche consulente della Commissione dei Lavori Pubblici della Camera dei Deputati e membro del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino del Cerchio. Ha pubblicato numerosi articoli su riviste specializzate, ha fatto anche studi nel settore dell'urbanistica. Nella giunta di Marco Costa, quella che è stata eletta dalla città di Vereggio dal 94 al 98, si occupava anche di urbanistica. Bene Riccardo, grazie per essere in tasso nostro ospite e complimenti perché Riccardo Bertini ha scritto un libro, eccolo qua, dal titolo Breve storia del territorio di Torre del Lago Puccini. Un'occasione importante per conoscere che cos'era Torre del Lago e quali trasformazioni fino alla dopoguerra ha subito. Allora, che cosa racconti in questo libro Riccardo? Ecco, tanto grazie per la presentazione. Nel libro racconto la storia del territorio di Torre del Lago. Dall'inizio, quindi praticamente dal 1400, quando alcune persone abitavano in capanne di falasco e erano tutte persone che stavano in quel luogo mal sano perché durante l'estate la malaria era una tendemica e quindi si moriva abbondantemente, stavano in quel luogo mal sano perché erano quasi tutti obbriganti scappati da altri luoghi oppure comunque persone che si rifugiavano lì soprattutto per non essere trovati dalle varie polizie. Si passa poi al momento invece culminante per lo sviluppo di Torre del Lago ma anche di Viareggio, con Zendrini, con le cateratte, il taglio della macchia, quindi tutto ciò rese più sana il territorio, la popolazione aumentò e Torre del Lago cominciò a svilupparsi attraverso sempre e soprattutto l'agricoltura che era il… Una domanda Riccardo, lo sviluppo di Torre del Lago nasce prima dalla via Aurelia verso il lago o dalla via Aurelia verso il mare? No, nasce soprattutto intorno al lago, il lago è sempre stato di proprietà privata, di ricche famiglie, di ricche famiglie lucchesi, che poi, sì lucchesi certamente, che hanno dato poi anche il nome a alcune importanti infrastrutture, per esempio i Burlamacchi, il canale Burlamacca, i Guidiccioni, la via della Guidicciona, eccetera, i turchi che poi costruirono una torre, da lì poi derivò prima il nome Torre dei Turchi, poi Torre dei Turchi e della Chiesa, perché costruirono poi una chiesetta per ovviamente le anime che stavano in quel luogo, e era attraversato il territorio dalla via romana, la via che collegava Montrone con Pisa e che sarebbe grossomodo la nostra via Aurelia attuale, e dal lago verso la via romana ci passava la via del Dinelli, Dinelli probabilmente doveva essere un personaggio del luogo che aveva poi realizzato la casa, e le prime abitazioni, che erano, dicevo, capanne di falasco, erano o nei campi o comunque vicino alla chiesa e vicino alla torre. Questo è il primo sviluppo. Questo è il primo sviluppo. Come è cambiata da allora Torre dei Lago? È cambiata soprattutto negli anni, poi c'è stato ovviamente il Puccini, che è stato un punto determinante, perché intorno poi a Puccini sono arrivati anche i pittori del lago, quindi una certa cosa, poi però si sono stati degli iniziamenti industriali, prima le Torbiere, negli anni 20. Una volta che le Torbiere sono chiuse, perché non era più economicamente vantaggioso prendere la Torba e trasformarla poi in energia elettrica che serviva per l'elettrificazione che allora era cominciata da la linea Pisa a Via Reggio, praticamente, e l'escavazione della sabbia. Sia le Torbiere che l'escavazione della sabbia, successivamente poi anche l'idrovolanti, ci fu anche la stagione dell'idrovolanti, portare una Torre del Lago a parecchie persone, soprattutto anche da fuori Toscana. Una curiosità, la sabbia che veniva scavata dal lago era di qualità scelta? Sì, veniva scavata dal lago perché era della... Cioè, la sabbia aveva cominciata a essere scavata già nel Settecento, e però veniva scavata, non a Torre del Lago ma a Sarocchino, nella parte, diciamo, nord del Padule e serviva soprattutto per tagliare il marmo. E veniva spedita... ci sono, no? Quei due barignani, quelle due cose che ci sono, nei barconi arrivava lì, di lì poi con i barrocci eccetera la portavano sul treno, il treno la portava a Carrara, di lì con i barrocci la riportavano sulle cave e serviva a quello. Invece fu la Sisa, quindi invece la società che si staurò a Torre del Lago quando chiusero le torbiere, che trasformò in questa intrapresa per cui la sabbia non serviva più solo per le cave, ma anzi serviva per esempio per le fonderie, serviva per il vetro, cioè fece questa grossa, questa costa innovazione. Ci lavorarono circa un centinaio di persone, finché erano produttive le cave a Torre del Lago e lì praticamente la Sisa scavava non tanto nel lago quanto nella penisola delle torbiere, che allora era stata bonificata e quindi cominciò a scavare in questo posto. Certo. Quanto hai lavorato a questo progetto? Ci ho lavorato circa un anno. Circa un anno cominciai... No, sono stato... Sì, vabbè. Negli archivi storici. Negli archivi storici, soprattutto nell'archivio storico di Torre del Lago, nell'archivio storico del comune di Viareggio, dove ho reperito parecchie deliberazioni. Ci sono anche alcune cose interessanti. Per esempio ho trovato delle delibere sulla scuola, che sono della fine dell'Ottocento, in cui si dice che non trovavano una maestra per poter insegnare, data l'amitezza dello stipendio, quindi adettero l'incarico a una studentessa, una studentessa che lavorava, che studiava appunto ai magistrali. Ecco, alcune cose così. Poi ho trovato documenti ovviamente all'ufficio urbanistica del comune, tutta la parte dopo, se mai ci vediamo un momento, e poi anche al parco Migliorino San Rossore, per tutta la parte che riguardava il parco e anche alla regione toscana, per tutta una serie di deliberazioni che sono qui citate. Secondo te sono stati commessi degli errori nel tempo e nell'urbanizzazione di Torre del Lago? Infatti la cosa che io poi a un certo punto ho approfondito maggiormente rispetto alle pagine è proprio il periodo che va dal secondo dopoguerra fino a giorni nostri. In questo periodo a Torre del Lago sono stati fatti a livello urbanistico degli errori veramente importanti, che hanno portato poi a questo sviluppo abnorme di Torre del Lago. Se noi guardiamo queste cartine che tu fai vedere ora, nello sviluppo che c'è stato dal 61 al 68, poi al 98, è quella dove c'è questa macchia nera e che rappresenta grossomodo l'abitato di Torre del Lago attuale, vediamo come un posto così incantevole, bello, pieno, dove la natura faceva da padrone, non a caso Puccini e i pittori del Lago si insediarono lì alla fine dell'Ottocento, primi anni del Novecento, proprio per questo rapporto con la natura, questo rapporto anche con la caccia, perché erano tutti cacciatori chiaramente. Quello che è diventato ora è una periferia dove non si conosce più, dove il genio Slosci proprio è sparito dall'anima. Infatti io mi domando alla fine del libro dove sta l'anima di questa città e se l'anima di questa città può essere recuperata. Rispetto all'urbanistica è stato in questo momento clou nel 64 quando il piano intercomunale Viareggio-Vecchiano viene adottato solo dal comune di Viareggio e non dal comune di Vecchiano, qui nel libro c'è scritto anche perché succede questo e rispetto a questo ci fu un'osservazione contro questo piano presentata da 1076 Torella Ghesi, quindi la maggior parte degli abitanti di allora, contro il piano perché lo ritenevano che fosse poco consono allo sviluppo del paese. Ci fu allora, e questo l'ho trovato, un'osservazione al piano fatta dalla democrazia cristiana, dal partito socialista, dal partito socialdemocratico di Torre del Lago che praticamente eliminò qualsiasi piano particolareggiato, per realizzare la città, piano particolareggiato significava che bisognava fare un piano dove erano indicate le strade, dove erano indicate le piazze, i luoghi pubblici, le modalità con cui puoi realizzare le case, invece fu eliminato completamente, fu una serie di zone agricole, furono trasformate in zone di completamento, fu eliminato addirittura anche lo spazio minimo, il lotto minimo per poter fare queste case e furono realizzate quindi tutto questo insieme di cose in stradette, tant'è che c'è un documento sempre dell'amministrazione comunale che dice a un certo punto piano viario di Torre del Lago, si parla di 80 strade numerate dall'1 all'80 perché erano tutte strade di campagna senza nome, della larghezza di 3,5 m, intorno alla quale poi si è costruito tutto quello che vediamo in queste due ultime foto. È già stato presentato il libro? No, il libro viene presentato giovedì prossimo alle 18 allo Chalet del Lago, quindi giovedì 24 ore 18 Chalet del Lago. Quindi chi volesse scoprire i segreti di Torre del Lago prima della guerra e dal dopoguerra in poi per vederne lo sviluppo, si legge questo libro, assiste alla presentazione e scopre come è nata l'anima di Torre del Lago. Volevo ricordare anche prima di chiudere che l'ingegnere Riccardo Bertini, il nostro ospite oggi, è il figlio della storica straordinaria partigiana Didala Ghilarducci, scomparsa ormai qualche anno fa, che ha dato un contributo non indifferente alla lotta della resistenza nella nostra città. Grazie a Riccardo, in bocca al lupo, per il successo di questo libro che contribuisce ad un ulteriore arricchimento della storia della nostra comunità. Grazie a voi. Noi invece ci vedremo puntuali domani alla solita ora, a tutti voi un buon presumimento di giornata. Arrivederci. Grazie a tutti.